Days Gone sta per arrivare anche su PC. Mentre si avvicina all'uscita, Band Studio ha finalmente deciso di pubblicare un primo filmato di gameplay, per mostrare cosa aspettarsi dalla nuova versione del gioco. Dopo l'annuncio arrivato il 23 febbraio scorso, le prime immagini della versione PC di Days Gone si concentrano sulle novità del porting. Si parte dal supporto ai monitor 21.9 Ultra Wide, con framerate sbloccato per rendere ancora più immersivo il combattimento contro orde di avversari, umani e non. Si aggiungono poi nuove opzioni di personalizzazione visiva, con migliorie varie che includono l'aumento del livello di dettaglio e una maggiore distanza di visualizzazione del fogliame. Confermato anche un ampio supporto ai più disparati sistemi di controllo, inclusi dispositivi terze parti oltre a mouse e tastiera. La nuova modalità foto, infine, permetterà scatti ad altissima risoluzione, da condividere su tutti i social network. Pubblicato per la prima volta il 26 aprile 2019 su PS4, Days Gone arriverà su PC il 18 maggio 2021 e sarà presente su Steam, Epic Games Store e altri rivenditori digitali. Voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di provare un'altra esclusiva Sony sul vostro PC? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. Grazie a tutti!